Oggi il teatro è con l'odore fisico, non mentale, fisico, e come il corpo si sente libero in un posto circoscritto, dove però tutto può avvenire perché avviene col cuore. Arriva anche a Francavilla in Sinni il viaggio di Lina Sastri attraverso la sua vita e la sua carriera, che si intrecciano sul palcoscenico di un cineteatro Columbia a Stracolmo, in un resi tal tutto anima e cuore. L'anima e il cuore sono quelli della regina del teatro, come è stata più volte giustamente definita, ma anche ambasciatrice della cultura napoletana in Italia e nel mondo. L'anima e il cuore è stato un po' di più, come è stato un po' di più, come è stato un po' di più, come è stato un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.